E allora signori, hanno suonato questa sera per voi i bellissimi, abbronzatissimi, elegantissimi alle chitarre Alessandro Chiari al pianoforte, alle tastiere Dot, Inge, Lutman, Umberto, Bumbi, Fabri alla batteria, alle luci, Gianpietro, Ceppo Beltrani Al basso, lui, la mente di questo gruppo, il cuore pulsante, Mauro Pavani Grazie, signori e signori, è un piacere presentarvi, Dennis Maritana Grazie 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 che sono io, vagabondo che non sono altro, sono d'intasca non ne ho, malasù viene rimasto mio, vagabondo che non sono io, vagabondo che non sono altro, sono d'intasca non ne ho, malasù viene no, won't mind no cry, no, won't mind no cry, no, won't mind no cry, no, won't mind no cry Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Grazie.